Siamo il Capo dello Stato, rappresentanti del Governo, autorità e colleghe e colleghi. La decima conferenza nazionale di statistica si apre in un momento particolare. L'Italia sta per avviare le celebrazioni del suo centocinquantesimo anniversario e l'Istat svolgerà un ruolo fondamentale per aiutare il Paese a guardare a questo periodo attraverso i dati statistici, così da valutare i progressi compiuti, le differenze, le omogeneità territoriali, anche in un'ottica di confronto internazionale. E poi in discussione l'attuazione della riforma dello Stato in senso federale e l'Istat collabora al processo di definizione degli indicatori di contesto e dei costi standard. L'Europa obbliga tutti i Paesi a disegnare i propri piani nazionali di riforma per coordinare meglio a livello sovranazionale le politiche economiche e sociali. L'Istat è chiamato a coordinare la produzione degli indicatori sulla cui base si disegneranno gli obiettivi e si valuteranno i risultati. Il mondo della politica e dell'economia si interroga sugli assetti migliori per uscire definitivamente dalla crisi. L'Istat e tutto il sistema statistico nazionale contribuiscono a fornire puntualmente le informazioni statistiche concernenti i punti di forza e di debolezza del sistema Italia, così da consentire il disegno delle politiche e delle strategie aziendali più adatte per dare una prospettiva di medio e lungo termine alle imprese, alle istituzioni, ai cittadini. Il momento è particolare anche da un punto di vista prettamente statistico. Come ha ricordato il sindaco Alemanno, è il momento dei censimenti generali. È in corso il censimento generale dell'agricoltura e tutto il system si sta preparando ai censimenti della popolazione, abitazioni, industria, servizi, non profit che si svolgeranno nel 2011. Questo biennio fondamentale per la conoscenza delle caratteristiche sociali ed economiche del Paese sarà un'opportunità per mettere in pratica molte delle innovazioni di cui ho parlato e sono sicuro che le istituzioni e le persone chiamate a contribuire al successo di quest'operazione dimostreranno una volta di più il loro impegno e la loro competenza. Insomma, in tutti i crocevia della vita economica, sociale e politica del Paese, la statistica ufficiale è chiamata dal proprio contributo fondamentale, più di quanto abbia fatto finora, in forme profondamente nuove, sempre richiamandosi all'etica della responsabilità e del servizio pubblico. Data la natura della sfida, ci rivolgiamo a tutte le componenti della società italiana per fare insieme il salto di qualità necessario e passare al livello successivo del gioco. A nome dell'ISTAT e del SISTAN non posso che riaffermare il nostro impegno ad innovare in profondità il nostro modo di lavorare e i nostri prodotti per meglio servire il Paese e così contribuire ad accrescere il benessere dei suoi cittadini. Grazie. Grazie. Grazie.